Scusate, sono completamente senza voce, è stato molto bello arrivare qui al palazzo con il professor Gillo Dorfless e vedere che moltissime persone lo fermavano come una sorta così chi aveva studiato con lui, chi aveva letto i suoi libri, è stata un po' un'emozione quasi un po', è stato fermato dai fan che nel nostro ambiente non capita spesso. Io gli do il benvenuto, voi tutti probabilmente conoscete il professore, soltanto due parole, è un teorico, è stato un critico, uno storico dell'arte ma anche un artista, professore di estetica all'università, ha insegnato in Italia e negli Stati Uniti e naturalmente i suoi libri, i suoi famosi mitici libri che hanno indagato il sistema delle società dei consumi ci hanno fatto riflettere sulla perdita dell'intervallo di quello spazio di vuoto e di silenzio prezioso che sembra essere scomparso nelle civiltà industrializzate. Ma tutto questo lo sapete, io do la parola al professore che ci racconterà i suoi ricordi dell'America e poi credo che ci sarà anche uno spazio per qualche domanda. Può darsi che io forse intervenga a un certo punto come anche interlocutrice. Grazie, grazie per essere con noi. Allora mi è stato chiesto di parlare di questi artisti della collezione Guggenheim come li ho conosciuti a suo tempo e ho cercato soprattutto perché fare un piccolo discorso, autobiografico fa sempre piacere, si preferisce parlare di se stessi che degli altri, è inutile cercare di dire il contrario perché non è vero. Quindi siccome io effettivamente ho avuto la fortuna, o in parte anche il giudizio, di andare varie volte a New York nel periodo 50-60, 45-65, quindi periodo cruciale quando la collezione si è costituita non solo, ma quando abbiamo avuto questa straordinaria trasformazione dell'arte che ho pensato che forse qualche notizia autobiografica poteva essere come aggiuntivo non indispensabile. Anche perché, premetto subito, io non sono uno storico dell'arte, non so niente delle storie dell'arte passata neanche di quella presente. Però quello che posso dirvi è che chi prende il catalogo di questa mostra e lo studia attentamente e soprattutto legge l'introduzione della professoressa qui presente è già completamente dotto su quello di cui dobbiamo parlare. Quindi praticamente io potrei benissimo stare zitto e consiglio tutti a comprare il catalogo o a farselo regalare oppure a estorcero in qualche modo perché veramente è un catalogo che vi dice tutto su questo periodo e su questi artisti. Ma detto questo non dimentichiamo che l'approccio diretto con un artista è fondamentale. Per questo credo che il fatto di aver avvicinato, se non tutti, quasi tutti questi artisti, l'ho potuto fare perché, tanto per fare un altro dato autobiografico, avevo avuto uno di quei travel grant, cioè dei premi di viaggio dove era subito dopo la guerra, insomma era negli anni 50 eccetera, dove alcune persone venivano alcune persone venivano assegnato un premio di viaggio. Una cosa veramente, devo dire, utilissima e in questo l'America è stata molto furba per riannodare i legami con l'Europa e con l'Occidente. E allora, siccome questo viaggio era previsto per un incontro con gli architetti contemporanei in America, quindi Lloyd Wright, quindi Louis Kahn, quindi parecchi di quelli che ormai sono addirittura storici, ho detto Louis Kahn, ho detto Lloyd Wright e sappiamo che se non ci fosse stato lui probabilmente non ci sarebbe stato il museo. Quindi faccio di aver conosciuto Lloyd Wright, per esempio, sia proprio nel museo che poi a tra gli Est in West la sua campagna nell'Est degli Stati Uniti, anzi nell'Ovest degli Stati Uniti, è stata per me una cosa estremamente importante perché una cosa è sentire parlare di Lloyd Wright e delle sue abilità architettoniche, una cosa è andare in casa sua, vedere questo ambiente straordinario di Tagliessi e d'altro canto accorgersi che nel salotto c'erano degli orribili cuscini di un gusto nefasto fatti dalla Orgivanna, la moglie di Lloyd Wright, la quale intesteva questi cuscini in una maniera deprecabile. E allora ci si rende conto che abbiamo un grande genio da una parte e una moglie tutt'altro che geniale dall'altra. Tanto per parlare di cose che mi riguardano. E allora, siccome ho cominciato a parlare di cose che mi riguardano, dirò che per esempio un'altra delle persone che ho avvicinato allora e che ho rivisto poi molti anni dopo è stato Rosco, che voi dovete conoscere e dovete aver ammirato quando ha fatto qui la mostra. Ebbene, Rosco per esempio allora era ancora un artista non ai suoi esordi perché aveva già una certa età, però poco conosciuto. Continuava a fare le sue grandi tele acquarellate, diciamo così, e mi ricordo di essere stato a trovarlo nel suo studio, uno studio abbastanza povero, dove lui mi ha portato in una stanza e ha detto adesso le farò vedere alcune delle ultime tele. e allora in uno sgabuzzino ho visto un rotolo dove c'erano arrotolate delle tele e lui allora ha srotolato queste tele e ho potuto vedere le meraviglie che tutti voi dovrete conoscere. E allora Rosco per esempio mi disse, eh sì purtroppo l'anno scorso ne ho venduta una, ma poi evidentemente al pubblico non piacciono. questo per dirvi come quello che è stato a mio vedere l'ultimo dei grandi pittori, ho detto pittori, non pop artisti o infidori o scultori, ma di pittori grandi come lui, credo che effettivamente è stato l'ultimo. Allora ecco perché alle volte raccontare un episodio personale può essere più importante che leggere un libro dove detto negli anni tal dettaglio, erotico faceva una pittura di tipo surrealistoide e voi potete vedere qui un esempio. Poi ha trovato questo nuovo modo di dipingere monocromo o bicromo comunque con una specie di campittura unica che è stata la sua grande trovata e quella che gli ha data la notorietà internazionale. Ma se uno non sa che c'è stato prima il periodo, chiamiamolo surrealista, comunque in parte figurativo, non saprà mai niente di quello che era ed è veramente un grande pittore come erotico. Potrei continuare, siccome i pittori esposti qui e che voi dovete avervi visto e se non li avete visti dovete vedere uno per uno, siccome i pittori qui esposti sono parecchie decine, se io per ognuno dovessi parlarvi dei miei rapporti personali andrei molte oltre la mezzanotte, cioè sarei già morto prima ovviamente e forse anche voi sareste morti dalla noia. Per cui vorrei dire che appunto andando negli Stati Uniti tra gli anni 50 e 70 frequentando l'ambiente artistico in gran parte per merito di Leo Castelli, il grande mercante che come sapete è quello che ha fatto Rauschenberg e Jasper Jones, per dirne solo due, ma se non c'era lui probabilmente non esistevano. Quindi non per vantare un mio concittadino come Leo Castelli, ma il merito di Leo Castelli nella formazione della pittura americana degli anni 50 e 60 è talmente grande che sarebbe assurdo non ricordarlo. E allora voi vedete che anche un mercante, un semplice mercante che poi non era affatto semplice perché come sapete ha sposato Eleana Zonavent che era a sua volta una grandissima mercante e perché ha saputo fare la prima galleria che allora era in un sottoscala del suo appartamento e dove io per la prima volta ho visto Jasper Jones e Rauschenberg con meraviglia, incredibile, ma allora era una novità assoluta. Oggi Rauschenberg lo vedete di parlozzo su qualsiasi giornale. La sua arte, pur essendo preziosissima dal punto di vista mercantile, è persino troppo conosciuta. Ma allora Rauschenberg, Jasper Jones e naturalmente anche molti degli altri quindi come dico se li nominano tutti e arriva a mezzanotte ma insomma un Liechtenstein per esempio, un Norland eccetera eccetera erano ancora completamente ignoti e per la prima volta si è riunito un numero così cospicuo di artisti decine di artisti i quali per la prima volta hanno creato quello che allora non era mai stato fatto. Voi capite che un pittore come Pollock, il grande, la divinità dell'action painting, della pittura d'azione, ha avuto quella straordinaria invenzione del dripping, dello sgosciolamento che è molto facile da citare ma difficile da inventare. Quindi è facile dire ha preso una lattina e ha cominciato a spargerla sopra la tela così come gli andava. No, ha inventato un nuovo modo di dipingere, una creazione aleatoria che non era mai stata inventata prima. È il grande scopritore della pittura aleatoria eppure prima non esisteva. Quindi vedete che per ognuno di questi artisti potrei parlare per delle ore e potrei dire come li ho conosciuti e come li ho trovati per la prima volta negli anni 50-60 a New York. Che intende per pittura aleatoria? Eh? Che cosa intende per pittura aleatoria? Che? Cosa intende per pittura aleatoria? Se non viene più vicino non sento niente. Cosa intende per pittura aleatoria? Beh, credo che voi sappiate abbastanza l'italiano per sapere cosa vuol dire aleatorio. Però non bisogna fidarsi, probabilmente la metà dell'auditorio non sa cosa vuol dire aleatorio. Comunque aleatorio vuol dire casuale, che avviene per caso e non per volontà precisa. Quindi la pittura di un Pollock era in parte voluta, ma in parte dovuta al caso. Sgocciolando, lui sapeva quello che voleva fare, ma non era sicuro di quello che sarebbe venuto fuori dallo sgocciolamento. E come lui, molti degli action painting, cioè dei pittori d'azione, dell'azionismo astratto, si sono serviti di una pittura che in parte era meditata, programmata, in parte era casuale, dovuta al caso o all'ispirazione del momento. E così possiamo dire di moltissimi di questi pittori e anche di alcuni di quelli che pur appartenendo a questo settore hanno finito poi per creare delle opere consistenti al di là dell'aleatorietà. Pollock è un caso tipico, indubbiamente. E così Rauschenberg. Ma parlando di Rauschenberg si entra in tutto un altro campo, insomma. Perché, non so, Rauschenberg insieme a Jasper Jones, come dico, io li ho visti per la prima volta e incontrati quando Leo Castelli non aveva ancora una vera galleria come ha avuto e c'ha tuttora. Aveva una specie di piedater nella casa dove abitava e lì esponeva questi primi esemplari di due artisti che praticamente non erano conosciuti. Quindi questo voleva dire e vedere per la prima volta artisti di questo genere. E effettivamente quando poi questi artisti sono stati esposti nella galleria che nel frattempo Leo Castelli acquistò vicino a Washington Square e allora l'impressione fu enorme anche da parte del pubblico o degli specialisti perché erano talmente lontani da quello che si conosceva che in un certo senso colpivano di più loro di quanto non avessero colpito molti degli astrattisti geometrici. Un Frank, per esempio, pittore geometrico, era un pittore d'avanguardia ma però riprendeva una pittura geometrica di cui c'erano stati tutti i precedenti. Già prima degli anni 50, tutti quelli che avevano imparato in Europa il costruttivismo russo, il destino olandese, l'arte concreta svizzera, tutte correnti più o meno geometrizzanti che poi erano sbarcate anche negli Stati Uniti ma che non costituivano la novità assoluta dell'action painting e della post-paintery abstraction. E allora, siccome ho fatto questi due nomi, action painting e post-paintery abstraction, devo citare almeno i due grandi critici che sono stati i paradini di queste correnti e cioè Harold Rodenberg e Clement Greenberg. Clem, che è stato un altro dei miei amici di allora, era uno straordinario critico. troppo spesso si parla degli artisti dimenticando completamente quelli che li hanno scoperti. Clem, che era una persona straordinaria come intelligenza, come cultura, ha scoperto tutto il settore del post-paintery abstraction. e Harold Rodenberg e lui è stato un pittore prezioso nel parlare per primo di Rashford, Jusper Jones, eccetera, eccetera. Quindi credo che bisogna ricordarli perché sono stati in gran parte per merito loro se l'America e poi naturalmente anche l'Italia si è resa conto dell'esplosione di una nuova creatività che prima di allora non si era mai rivelata a questo punto. Che successe in Italia per la Biennale del 1964 quando arriva la pop-art e tutti si sprendono un grande spavento? Dice quando in Italia? Nel 1964 per la Biennale quando Rauschenberg, lei dalle pagine di metro aveva già fatto conoscere in Italia Jasper Jones, Jim Dine, Rauschenberg, anche quella di metro, la vittura di metro. Naturalmente la data che ha citato la professoressa e che io l'avevo dimenticata come tutte le altre date è fondamentale per un'altra ragione che è stata la data di nascita, anche se già esisteva prima, di quello che poi si è chiamato pop-art. La pop-art sapete che cos'è? Ma è la continuazione di quello che all'inizio ha fatto quelli che ho citato prima. L'emissione da parte di Rauschenberg di un vasetto, di una scatolta nei suoi dipinti, l'emissione di oggetti in una pittura astratta, espressionista, è una novità assoluta, anche se ci si può ricordare di alcuni precedenti europei, di certe cose surrealiste, dei collage berlinesi, ma insomma un'artista che facesse un'opera mettendoci le penne di un pavone o una bottiglietta di Coca-Cola non si erano ancora viste. Far diventare mezzo artistico, un mezzo neutro che non era mai stato considerato come artistico è una novità assoluta e quindi la pop-art è stata la prima che ha saputo utilizzare un oggetto qualsiasi trasformandolo in oggetto artistico. e secondo, e anche molto importante, utilizzare degli elementi decisamente ticci, cioè di cattivo gusto, e immetterli in un quadro per sublimarli e farli diventare opera d'arte. C'è sempre differenza tra l'interpretazione americana della pop-art che non prende una posizione netta ideologica e invece l'interpretazione europea che tende a vedere gli oggetti della pop-art appunto come lei ha detto da un oggetto semplice, sublimato, ma la sua sensazione è che questa interpretazione corrisponde a quella che davano gli stessi artisti o i critici americani? Sì, la domanda è molto giusta perché non dimentichiamo che la pop-art nata in America come giustamente doveva nascere ha avuto delle diramazioni e in parte non dall'America ma autoctone molto importanti, l'Inghilterra, sì, un pittore come Alan Jones per esempio, grande pittore della pop inglese come il resto Richardson e Paolozzi, questi pittori della pop inglese e perché dimentichiamo la pop italiana tra cui il grande Bae che appartiene alla pop-art. Quindi tanto la pop-art italiana e possiamo citare naturalmente Krip e tanti altri e la pop-art in lese, pur appartenendo alla pop-art, sono molto diversi dagli americani, anche perché gli americani hanno saputo fare proprio molto più degli europei il problema del gusto, del cattivo gusto. Il kitsch, parola che esisteva solo in Germania e che poi si è estesa in tutto l'Occidente, anche modestamente per merito mio, era già ben nota negli Stati Uniti dove il kitsch alignava, perché permettetemi di dire che buona parte della cultura americana è di cattivo gusto. Il kitsch domina a New York, quindi possiamo dire New York è la pace del kitsch. E allora ecco che aver saputo utilizzare delle opere d'arte vere con degli elementi kitsch è stata un'impresa geniale, imitata poi di rimbalzare gli europei senza che ci riuscissero del tutto. Però per esempio Bae ha fatto dei mobili interziati che sono decisamente kitsch, i suoi generali con le medaglie, le donne con le varie decorazioni, eccetera, sono dei quadri decisamente kitsch, fatti originariamente da Bae, quando ancora la pop art americana non era stata inventata. Ma allora ci aiuti a capire, il Rauschenberg che mette la bottiglia di Coca-Cola nel quadro utilizza un elemento kitsch, per esempio per il suo amico Clement Greenberg Rauschenberg rimane un artista kitsch e quindi non interessante, mentre noi lo vediamo con un altro occhio, noi lo vediamo con un altro occhio, non lo vediamo più kitsch, per esempio Greenberg continua a vederlo kitsch come l'oggetto che lui assume nel quadro. Naturalmente il kitsch esisteva prima dell'arte pop, perché il kitsch è un fenomeno che risale alla metà dell'Ottocento, con l'arte moltiplicata di serie fatta induzzialmente, si è cominciato a passare da un artigianato artistico a un'oggettualità di cattivo gusto, non sempre, alcune volte. Quindi possiamo dire che il kitsch, il cattivo gusto nell'oggetto d'uso comincia alla fine dell'Ottocento, ma quello di servirsi di questo oggetto kitsch, la lattina di pomodoro, le piume di struccio, la scatola di profumo, eccetera, tutto questo non era mai stato fatto prima della pop art. E quindi è merito degli artisti veri come Rauschenberg, Jasper Jones, Jim Dine, di aver capito l'importanza di mettere l'oggetto nella pittura. Jim Dine, per esempio, è un esempio tipico. Jim Dine è stato uno dei primi a fare i suoi dipinti con gli oggetti trovati. E da lì è passata poi la grande avventura della pop art. Prima di Rauschenberg, Jim Dine. Prima di Rauschenberg, sì. Non dimentichiamo che poi Rauschenberg, di tutti quelli che ho citato, forse perché era quello con cui avevo più amicizia e che mi ha anche regalato un suo quadro. Quindi ne parlo bene perché gli sono riconoscente. Siccome gli altri non mi hanno regalato nessun quadro e allora posso anche disprezzarli. Comunque Rauschenberg è stato senza dubbio un grande pittore nel senso tradizionale della parola. Cioè aveva delle grandi qualità fittoriche, come adesso ha anche Jasper Jones. Mentre invece poi alcuni degli artisti successivi, Liechtenstein, devono essere considerati da un altro punto di vista. Quando Liechtenstein, per esempio, comincia a fare i suoi alfabeti, le cose cambiano. Cioè è vero che prende un elemento che ha trovato, ma un elemento che non era assolutamente considerato come artistico. quindi eleva a una potenza un elemento che era stato sempre considerato come tutta altra cosa. È uno dei casi più interessanti, quindi. Quindi Liechtenstein, Rosenquist e molti altri di questi artisti che ci sono serviti di elementi extra pittorici, hanno avuto la fortuna di scoprire qualche cosa. Ci può raccontare ancora qualcosa dell'avventura di Metro, del giornale Metro, che ha avuto tanta importanza nella divulgazione dell'arte americana in Italia. Sì, l'avventura della rivista, come... Ma Metro ha avuto molta importanza perché è stato una delle prime riviste a occuparsi di questi fenomeni. Di fatti quando è uscita, non mi ricordo, ma... 50, 60, dunque 59... La facevamo con... Appunto con... come si chiama? Alfieri. Alfieri. E io stesso avevamo fondato questa rivista di Metro proprio per portare in Europa il nuovo verbo astratto impressionista o action painting, la stessa pop art. Effettivamente credo che sia stata importante la cosa perché allora in Europa non c'era ancora una rivista che tenesse colto di questi fenomeni. È stata una rivista che veniva pubblicata bilingue, in italiano e in inglese. Anzi, alcuni testi erano soltanto in inglese. È l'unica volta che Leo Steinberg pubblica un testo in italiano negli anni 60 è proprio sulla vostra rivista il testo, se non sbaglio, su Rauschenberg, se non sbaglio. Sì, sì, no, effettivamente credo che è stato uno delle grandi fatti culturali italiani. Metro per l'arte visiva Out Out, la rivista fondata da Enzo Paci per la letteratura e la filosofia sono le due prime riviste del dopoguerra dove l'Italia si è aperta al resto dell'Europa e dell'America. Perché prima di allora una rivista italiana che si occupasse di pittura all'avanguardia non esisteva. Quella di Ragianti aveva fatto qualche tentativa ma molto modesta, insomma. E in America i pittori li ha incontrati grazie al tramite di Leo Castelli è stato Leo Castelli a inserirla e a farla conoscere i pittori? Come in questo? È stato Leo Castelli a presentarle i pittori in America all'inizio negli anni 45-50 quando andava le prime volte? O Leo Castelli non era ancora arrivato forse? Beh, è abbastanza interessante vedere come è avvenuto lo scambio tra Italia e Stati Uniti. Perché io ricordo quando sono arrivati a Roma i primi i primi pop artisti quando in Italia si guardava agli Stati Uniti come una specie di Eden lo stesso caso prima di Sight-Wombly che c'era? Scarpitta forse? Marcarelli? Marcarelli è l'importante ma oltre Scarpitta c'è Nivola 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 il titino Nivola che è un grande artista che io poi ho ritrovato negli Stati Uniti dove lui si era trasferito e dove ha fatto dei lavori importantissimi come a Chicago per esempio ha fatto una parete di un trattacielo scolpita da lui ora Nivola un sardo trappiantato in America dove si è soffermato per parecchi anni e Scarpitta che è stato l'inventore delle macchine oggetto artistico sono due casi straordinari che in Italia non sono ancora abbastanza apprezzati ora pare che ci sarà una mostra importante di Scarpitta ma anche Nivola aspettiamo ancora che ci sia una grande mostra per ora c'è una raccolta in Sardegna che però pochi hanno visto ora questi due artisti che sono stati negli Stati Uniti in quegli anni da un lato hanno imparato quello che gli succedeva dall'altro hanno creato delle cose assolutamente autonome io ricordo di aver visto sempre da Leo Castelli una delle prime automobili fabbricate da da Scarpitta ma tra l'espressionismo astratto e la pop-arte il suo cuore dove si pone tra l'espressionismo astratto e la pop-arte il suo cuore da quale parte batte di più ma direi che uno dipende dall'altro anche se per solito non si fa questa funziona? si si funziona non vorrei averlo scherciato il suo cuore diciamo il suo cuore quello che a lei interessa di più quello che sente più vicino ma naturalmente l'espressionismo astratto per il conto mio è l'ultima grande tendenza pittorica perché Jasper Jones e Rauschenberg sono due grandi pittori mentre invece molti dei pop artisti Oldenburg e Rauschenberg quelli più più noti molto spesso sono degli inventori di accocciaglie ma non sono dei grandi pittori quindi io credo che l'action painting primitivo quindi Pollock Rauschenberg Jasper Jones e anche i post painting di appunto di 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 Clem sono i pittori più importanti perché sono quelli che continuano quella che era la pittura alla fine dell'ottocento americana e nel stesso tempo sono paralleli ai grandi espressionisti tedeschi perché indubbiamente l'action painting è una corrente espressionista quindi in Germania abbiamo i Kirchner abbiamo i vari artisti espressionisti e in America e in America De Kooning per esempio tanto per fare un nome insomma anche se De Kooning è olandese ma però insomma è sempre uno dei grandi azionisti americani volevo volevo sottolineare che il professore guarda per non andare ora adesso diamo la parola al pubblico il professore non mette Rauschenberg e Jones tra i pop artisti che è un modo di vedere anche diciamo molto della critica europea cioè Rauschenberg e Jones sono un'altra cosa perché dipingono perché non c'è il rapporto più freddo algido con il mezzo così con la rappresentazione che invece o con l'esecuzione manuale sì ma più meccanica come quella di Liechtenstein o il mezzo non manuale ma per esempio la serigrafia di Andy Warhol e per noi diciamo europei Jones e Rauschenberg sono ancora degli artisti più legati all'espressionismo astratto e spesso vengono identificati come New Dada che però per uno storico un critico americano il New Dada è una definizione troppo europea io inviterei forse se c'è qualcuno dal pubblico se vuole fare qualche domanda di dire prima dunque perché ho nominato quegli italiani c'è anche come si chiama oltre a Crippa Dova Dova forse ah sì ha nominato i milanesi ci ha lasciato i romani i romani Schifano i nostri Tano Festa Schifano c'è anche un pittore milanese che è stato a New York in quegli anni ma non mi ricordo come si chiamava c'è aiuto dalla sala un pittore milanese Bruno chiede un giudizio su Scialoia e Dorazio Bruno vuole sapere ma chi me lo chiede Bruno Ceccobelli eh grazie è troppo facile sapendo che mi legavano dei legami amichevoli profondi sia con sia con Dorazio che con Scialoia e quindi non posso che dare un giudizio sublime per tutti i due devo dire che sono stati due grandissimi amici mi ricordo quando Scialoia è andato in America sperando di spondare e poi sono andato indietro deluso ma per colpa sua perché c'è stato 15 giorni e quindi e così Dorazio che però ha avuto anche eh no Dorazio ha avuto il merito di andare a Philadelphia di fermarsi e quindi è riuscito a farsi riconoscere abbastanza ma certo che sia Dorazio che da Scialoia meritavano di essere alla pari con i colleghi americani c'è una signora del signore volevo chiedere diciamo brevissimamente due cose una che da quando più alto poi glielo dice grazie non ho sentito mai nominare burri da quanto frequento queste burri sì né burri che mi pare possa essere un discorso insomma che vada messo dentro rispetto all'informale o comunque un certo rapporto con l'arte materica europea l'altro che volevo far notare che nell'ultima mostra di Morandi a New York c'è stata una grossa sottolineazione con un rapporto corozco e se il professore ci potrebbe segnare delle cose e poi infine un'ultima cosa ancora gli oggetti usati la coca cola la lattina che vengono nominati come oggetti kitsch se non vengono qui a chiedermi scusate grazie gli oggetti usati sempre vanno qui dentro gli oggetti usati gli oggetti usati dalla pop cioè la lattina di coca cola Rauschenberg e poi hanno continuato in realtà c'è un problema erano già perché considerarli kitsch quando questi oggetti erano stati già disegnati da anche d'artista perché facciano degli oggetti li pensi di disegnare non riesci a spiegare c'è già un rapporto estetico che c'è di mezzo signore prima ho chiesto lamentava che nelle nostre conferenze non si è ancora mai parlato di burri 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 è uno dei nostri più grandi artisti ma il fatto che si è andato in America per un mese non ha voluto dire niente in fondo burri non ha influenzato e non è stata influenzata dall'America quindi non c'era una ragione di nominare burri no? poi il paragone tra Morandi e Rotko ah una bis una bis tanto Rotko è stato il più grande pittore degli ultimi anni tanto Morandi è stato l'ultimo dei pittori dopo Morandi non c'è più stato pittore però Morandi era già finito mentre Rotko era appena cominciato Morandi rappresenta la fine della pittura Rotko rappresenta la continuità di una pittura che non è morta io vi ringrazio chiedo scusa per questa voce terribile ringrazio moltissimo il professore per questi ricordi e anche per queste note molto puntuali che ci ha saputo regalare sulla pop art sul Neo Dada e ora per ultima questa sulla nuova sull'apertura di Rotko e su Morandi come ultimo dei pittori di un certo tipo grazie mille grazie a tutti 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 grazie a tutti